La libertà di informazione è uno dei diritti primari di una società civile, purtroppo quello che dispiace è che ci troviamo a parlare di questo tema in un mondo che si sciacqua la bocca spesso di libertà di informazione, poi l'abbiamo visto anche nel manifesto dei brillini, la prima attività da fare per essere sicuri che comunque ci sia una informazione più libera è cominciare a spegnere delle voci di informazione tra le reti di Mediaset e nessuno potrebbe possedere più del 10% di capitale, questo secondo me è un ritorno al pensiero unico del monopolio orario, poi ognuno la vede come vuole, ma voglio capire chi finanzia un'attività in cui può avere il 10% di capitale. quello che mi preoccupa però adesso al di là delle proclame che ovviamente hanno anche questo impatto di comunicazione e poi insomma calare queste istanze all'interno della realtà è una cosa ben più difficile. Quello che mi preoccupa di più è questo doppio canale, questa doppia attitudine che soprattutto in Europa esiste in termini normativi tra quello che è televisione e quello che è tutti gli altri media. Noi alla fine, anche in Italia, siamo come televisione l'unico mezzo che è regolamentato in tutte le sue attività e su tutti i suoi aspetti perché abbiamo i limiti sulla pubblicità, abbiamo i limiti di fatturato, abbiamo il numero di programmi che possiamo distribuire, in campagna elettorale siamo più o meno obbligati a un bilancino tra tutte le forze politiche, insomma diciamo che la nostra libertà si sviluppa in un ambito abbastanza controllato e governato. Cosa che non succede per la stampa, dove veramente a parte gli obblighi di rettifica c'è ben poco e soprattutto non succede in modo più assoluto quanto riguarda la rete. Abbiamo denunciato spesso che nella rete c'è come una sorta di assorbimento di tutti quelli che sono i reati perpetrati perché sembra che quello che è reato fuori della rete non lo sia e per questo si scusa la pedofilia, si scusa la presenza di contenuti pornografici, la violenza, la violazione del diritto d'autore e questo insomma fa pensare, voi considerate che l'anno scorso, soltanto l'anno scorso nel G8 di giugno, quindi un anno fa, si è arrivati come minimo comune denominatore tra i vari paesi maggiormente industrializzati a dire che si poteva parlare di un internet responsabile, non di regolamentare internet, ma comunque dice far sì che in termini di autoregolamentazione almeno quelli che erano i principi fondamentali dell'ordinamento democratico fossero declinati. L'Europa facendo mostra di un grandissimo orgoglio sta per far approvare sempre in termini di autoregolamentazione 5 punti, 5 azioni a difesa dei minori sui siti web e sulle produzioni programmazioni via internet. Allora è sempre in Europa e in questi giorni ci sarà il 27 di questo mese un grosso convegno, di nuovo il problema della proprietà di media è correlato a questo, come misurare il sistema pluralismo, quanto pluralismo, la quantità di pluralismo dei nostri paesi è inutile che vi dica che nel prospetto di analisi delle situazioni infattuali nei vari paesi l'Italia è all'ultimo grado della scala mercalli perché siamo considerati comunque come una nazione dove non c'è pluralità di informazione. Allora lo sapete tutti quanti, siete tutti specialisti, l'80% praticamente della normativa di un qualsiasi paese europeo è ormai a due figli, a delle direttive che vengono assunte a livello comunitario. Quindi insomma non c'è da stare tranquilli nel modo più assoluto perché le due velocità di cui vi parlavo si esprimono proprio in questo, cioè da una parte si sta ragionando di rivedere la direttiva sui contenuti audiovisuali non per cercare di allargare come si voleva all'inizio il campo di applicazione anche a tutte queste forme nuove in cui i contenuti si possono godere. Ma si sta ripensando che forse sulla pubblicità gli stati hanno applicato la direttiva in maniera troppo estensiva. Quindi qui si cerca di nuovo di stringere gli ambiti di libertà. Quando poi invece si parla della rete, c'è questa ubriacatura della necessità di connessione all'alta ultralarga, di diffusione delle reti di nuova generazione, i contenuti non sono neppure citati nell'agenda digitale dell'Europa 2020. Quindi qui c'è un grossissimo lavoro da fare e l'oggetto di questo convegno di oggi è fondamentale proprio in questo senso perché bisogna stare attenti perché si viene in argomento tutto quello che è libertà di espressione per coartare questa libertà. Ma i contenuti e quindi il sostratto che poi veicola l'informazione e che quindi esprime questa libertà è fortemente sottovalutato in tutte le normative che da qui in avanti saranno comunque quelle che guidano l'Europa e i nostri paesi. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.